L'impianto è uno degli impianti più lunghi d'Europa con i suoi 1850 metri e uno dei più alti per quanto riguarda il franco da terra e l'altezza massima è 360 metri. Si percorre in circa un minuto e dieci nella modalità Falcon e un minuto e 45 nella modalità Freestyle. Perché è più frenato? Sì, perché l'aerodinamica è diversa naturalmente, nel Falcon si è molto più aerodinamici e si arriva a una velocità anche di 140 km all'ora. Nella Freestyle, essendo la posizione frontale, si prende molta più aria e quindi la velocità è limitata a 80-80 km all'ora. Come vedete sta arrivando un Falcon Style abbastanza deciso. Eccolo qua. Questo era Falcon Style? Questo era Falcon Style. Con la carrucola blu, come potete vedere, abbiamo tre tipologie di carrucole, una bianca, una blu e una rossa a seconda dei pesi. La bianca viene utilizzata fino a 70 kg, noi partiamo da 40 kg, il peso minimo, fino a 70 kg. La blu da 70 a 90 e la rossa per gli over 90 kg. Mi sa che chi tiene la telecamera opterà per la rossa. Vabbè. Ma è per le telecamere. Però se vuole entrare un po' più deciso. Dai, fra telecamere, batterie, eccetera, eccetera, perché la nonna dice che ho le ossa grosse, quindi è per quello che... E noi ci crediamo. Certo. E noi ci crediamo.